signori buongiorno e bentornati sul canale master k e io sono il master k e il vostro ospite su questo canale e noi stiamo arrivando in direttura d'arrivo anche con questa ottava stagione abbiamo dedicato quest'anno a parlare delle fazioni e adesso il mese prossimo vedrete poi video del mega riassunto di quest'anno che in realtà sono già stati iscritti perché è un lavoro da parte della community e i testi li ho raccolti intorno ad aprile quindi sono già pronti in questo momento devo ancora montarli ma tempo che voi vedrete questo video saranno probabilmente già in attesa di essere pubblicati prima di chiudere l'anno e l'argomento però c'è ancora una cosa di cui dobbiamo parlare e sarà proprio l'argomento del video di questa settimana nei vari video di quest'anno abbiamo parlato di tutti i modi in cui i png e nella fattispecie le fazioni di png vanno a integrarsi nel vostro mondo di gioco sia a livello di war building o sviluppo all'ambientazione sia anche a livello di singole quest come utilizzare le fazioni di giocatori per creare un motore che in nuove situazioni di gioco il fatto però è che i giochi di ruolo sono composti solo per la metà da quello che è l'universo immaginario e le avventure che ci si svolgono all'interno l'altra metà sono le regole e dato che sono le regole che permettono ai giocatori di dichiarare che cosa faranno i personaggi all'interno del gioco a voi come master di dichiarare cosa succede in reazione a quello che fanno i personaggi non sono sicuramente un argomento che deve essere trascurato quindi questa settimana andiamo proprio a parlare di come adattare le fazioni del vostro mondo immaginario al regolamento che state utilizzando e anche come adattare il regolamento stesso alla presenza delle vostre fazioni di gioco prima iniziare premessa ovvia ma indispensabile esistono centinaia di migliaia di giochi di ruolo diversi alcuni si assomigliano altre non le logiche totalmente diverse da tutto il resto quindi io da qui non posso sapere qual è il gioco di ruolo a cui state giocando voi e sicuramente ce ne saranno a dozzine solo tra quelli che stanno guardando questo video in questo momento quindi per forza di cose io dovrò cercare di tenermi il più possibile sul generico quando parliamo di regole in questo video date per scontato che tutto quello che dirò è pensato per adattarsi principalmente ai giochi di ruolo tradizionali neo tradizionali quel tipo di regolamento lì anche perché molto spesso giochi narrativi o non hanno proprio bisogno nella presenza di fazioni in gioco o hanno già delle loro regole molto specifiche su come utilizzarli quindi fare un discorso anche per quelli lascerebbe abbastanza il tempo che trova e cominciamo subito con un elemento molto semplice ma che spesso viene ignorato e non è presente in molti regolamenti cioè un modo per gestire in maniera chiara numerica e matematica quale sia l'affiliazione del gruppo di gioco rispetto alle varie fazioni all'interno della campagna esistono vari modi per renderlo ma quello più comune ed è anche quello che più frequentemente si vede implementato nei pochi regolamenti che effettivamente lo implementano è un semplice sistema a punti in cui più i giocatori hanno dei comportamenti degli ideali favorevoli una determinata fazione guadagnano punti al contrario perdono punti e a seconda di quanti punti hanno in più o in meno su questa ipotetica scala dell'affiliazione corrisponderanno per loro o degli vantaggi o degli svantaggi quando la fazione sarà chiamata in causa facendo un esempio molto pratico e volendo rimanere sul semplice possiamo dire che nel vostro gioco ogni fazione è assegnata una scala che va da più 10 punti fino a meno 10 punti ogni volta che i personaggi faranno qualcosa che aiutano a determinata fazione guadagneranno punti e ogni volta che si oppongono a quella fazione ne perderanno ovviamente in base a quanto il punteggio sia alto o basso la fazione reagirà diversamente nei confronti dei personaggi giocanti nel corso del gioco a 0 punti la fazione sarà neutrale nei loro confronti a più 5 punti gli garantirà uno sconto ogni volta che fanno acquisti con quella fazione e a meno 5 punti si rifiuterà di commerciare con loro magari raggiunti i più 10 punti e i personaggi verrà chiesto se vogliono diventare membri effettivi di quella fazione e a meno 10 punti saranno così odiati che verranno attaccati a vista dai membri di quel gruppo ovviamente in una campagna vera e propria un metro dell'affiliazione con una fazione dovrebbe essere molto più complesso di così e quali siano effettivamente i vantaggi e i svantaggi dovrebbero essere molto influenzati da qual è l'estetica e l'immaginario che c'è dietro sia la fazione specifica sia l'intera ambientazione all'interno di cui è immersa però diciamo che per fare un esempio questo mi sembra abbastanza chiaro ovviamente per una quest molto corta una one shot o anche un'ambientazione più semplicista in cui magari esistono solo due fazioni che si contrappongono l'una all'altra inserire delle regole per tener traccia di queste cose porterebbe semplicemente ad allungare tempi di gioco introdurre materiale che non è particolarmente utile quindi potrebbe essere del tutto ignorate il master semplicemente farà agire i membri della fazione quando i giocatori li incontrano nella maniera più logica possibile però per una campagna molto lunga magari un sandbox in cui neanche il master sa quando le varie fazioni verranno chiamate in causa e che magari al suo interno a una dozzina o anche più fazioni ognuna con un proprio ideale specifico un interesse che a volte si contraddice a volte si accavalla con quello di altre fazioni questo potrebbe essere un modo che rende effettivamente molto semplice la vita sia al master che ai giocatori per tenere traccia di chi hanno aiutato e chi no quando magari tra un incontro e l'altro con quella specifica fazione potrebbero essere passati anche mesi nel mondo reale man mano la campagna procede legato al metodo del punteggio o anche preso a parte un altro modo per integrare le fazioni nella logica delle vostre regole è quello di limitare la disponibilità di qualche elemento di gioco all'affiliazione o al grado di affiliazione con una determinata fazione ora quale elemento del gioco state giocando sia una risorsa non posso saperlo da qui ma in linea di massima moltissimi giochi hanno degli oggetti o delle capacità che i giocatori vorrebbero per i loro personaggi che magari sono più difficili da ottenere rispetto ad altre normalmente perché sono più potenti nell'esempio più banale potrebbe trattarsi di armi o altri equipaggiamenti qualunque ricettatore di strada sarà in grado di procurare una pistola ai giocatori ma se vogliono qualche arma veramente potente dovranno andare a parlare con la mega corporazione che produce le armi e che ha possibilità di dargli a disposizione cannoni laser e fucili al plasma questo però potrebbe estendersi anche a specifiche capacità o altre abilità meccaniche che i personaggi possono acquisire in modo che anche a livello meccanico risulti l'affiliazione a un'organizzazione da parte dei personaggi nel vostro mondo fantasy potrebbero esistere i vari ordini cavallereschi e varie accademie di magia in competizione tra i loro e se i personaggi vogliono acquisire un particolare talento di combattimento o imparare un determinato incantesimo questo sarà a disposizione solo di una specifica fazione in questo modo i giocatori non dovranno riflettere soltanto sugli elementi politici all'interno dell'ambientazione per decidere quale è l'affazione con cui loro vogliono schierarsi ma anche gli elementi meccanici perché schierarsi con una fazione rispetto a un'altra avrà delle conseguenze non solo per la storia ma anche per la build dei loro personaggi allo stesso modo all'interno del vostro mondo di gioco alcune fazioni potrebbero concentrarsi esclusivamente o dare maggiore enfasi anche se non a discapito di altro a specifiche meccaniche del gioco diciamo ad esempio che il gioco a cui state giocando essendo un gioco tradizionale pone molta enfasi meccanica sul combattimento tattico sulla griglia sul crafting e la creazione degli oggetti e sull'esplorazione delle aree della mappa si decisamente un gioco banale potrebbe essere un osr potrebbe essere un dnd ma diciamo e tantissimi giochi ricadono in questa descrizione all'interno della vostra ambientazione potrebbero esistere tre fazioni o magari tre diversi tipi di fazione ognuno dei quali si concentra solo o maggiormente su uno di questi tre aspetti ci sarà una gilda di guerrieri che predilige tutti gli aspetti del combattimento tattico un'associazione degli artigiani che si concentra sulla creazione di armi ed equipaggiamenti e una fratellanza degli esploratori che ha come suo scopo principale riempire le zone vuote della vostra mappa e quindi predigerà tutto quello che riguarda le regole per l'esplorazione non solo le specifiche fazioni daranno ai giocatori delle missioni relative all'immaginaria a cui sono legate i guerrieri manderanno i giocatori a combattere qualcuno qualcosa e come abbiamo visto prima potrebbero loro rendere disponibili abilità o equipaggiamenti specifici per quel tipo di missioni che loro preferiscono ma potrebbero anche essere l'unico modo all'interno del gioco che hanno i personaggi giocanti per sbloccare interi sottosistemi di regole ad esempio i giocatori non potranno creare oggetti fino a quando questa abilità non gli verrà insegnata dall'associazione degli artigiani o la qualità o la quantità di oggetti che loro possono costruire dipenderà dalla presenza e dal livello nel caso sia presente di uno specifico membro alla gilda degli artigiani senza quale l'artigianato non è possibile ovviamente le regole fondamentali per poter giocare non dovrebbero essere legate a una meccanica all'interno del gioco per poter essere sbloccate quali sono le regole per picchiare un mostro che sta cercando di attaccare i giocatori dovrebbe essere chiara a tutti i giocatori nessuno deve spiegarle il loro personaggio all'interno del gioco poi a seconda del gioco dipende come saranno le meccaniche principali però molti giochi hanno appunto specifici sottosistemi di regole che potrebbero essere anche ignorate per buona parte del gioco senza perdere nulla di così importante come detto per esempio le regole del crafting o specifiche regole per guadagnare bonus relative la mappa anche lì dipende molto dal gioco e usare un sistema di gilde potrebbe essere per esempio un modo utile per introdurre i vari sottosistemi all'interno un regolamento ad esempio i giocatori neofiti all'inizio del regolamento loro dovranno imparare solo le regole principali e poi nel corso del gioco man mano che incontrano i png delle gilde insieme all'introduzione della gilda il master intruderà loro anche quali sono le regole per uno specifico sottosistema in ultimo anche se sarebbe meglio non farlo si potrebbe andare ancora oltre e non adattare elementi delle regole alle fazioni ma adattare e scrivere vere e proprie nuove regole e rimaneggiare regole esistenti perché vadano ad allinearsi con l'immaginario che voi avete pensato per le fazioni della vostra ambientazione quando si fa qualcosa del genere bisognerebbe sempre cercare di restare nei limiti nel framework del gioco però molto spesso sono presenti vari sottosistemi che sono molto più elastici e potrebbero essere rimaneggiati senza avere conseguenze gravi per il questo è il gioco molto banalmente il master potrebbe introdurre nuove di quelle abbiamo chiamato risorse che siano talenti incantesimi o armi comunque dei nuovi elementi all'interno del gioco con delle loro regole che siano disponibili solo da una fazione o tramite l'affiliazione a una ma la cosa potrebbe andare anche oltre potrebbero essere introdotte classi razze origini professioni o come si chiamano nel gioco che state utilizzando comunque delle specializzazioni meccaniche per i personaggi che siano disponibili solo ed esclusivamente con determinati gruppi interesse all'interno l'ambientazione ovviamente le cui abilità e quei poteri riflettano l'immaginario che c'è dietro quella fazione volendosi spingere ancora oltre anche se questo richiede non solo una grande conoscenza del framework del gioco ma anche vere e proprie capacità di game design e probabilmente un sacco di tempo per il play testing quindi probabilmente non è qualcosa alla portata di tutti però teoricamente si potrebbero anche introdurre interi nuovi sottosistemi di regole dedicati a meccaniche specifiche per le varie fazioni nell'esempio che abbiamo fatto prima per esempio la fazione degli esploratori potrebbe avere delle sue meccaniche specifiche per fondare un nuovo villaggio un nuovo insediamento in una zona della mappa dopo che questa è stata scoperta regole del genere esistono per esempio per pathfinder 1 con tanto di risorse e costi per costruire nuovi edifici e bonus meccanici che l'insediamento ottiene in base a quali sono state le scelte dei giocatori nella sua edificazione potrebbe però più banalmente limitarsi a avere meccaniche estremamente specifico estremamente situazionali che siano aggiunte ma riservate solo per una specifica fazione nell'ambientazione di dune per potersi spostare da un sistema solare all'altro per viaggiare più veloce nella luce bisogna per forza fare richiesta alla gilda dei navigatori magari nella vostra ambientazione esiste qualcosa di analogo i giocatori possono fare tutto quello che vogliono nella loro città di partenza ma per andare da una città all'altra devono per forza andare a parlare con uno specifico individuo che appartiene a uno specifico gruppo che è quello che gli dà il permesso o la capacità di andare da una parte all'altra o qualcosa di equivalente che sia estremamente importante in una specifica situazione di gioco ma che possa essere ignorato nel 90 per cento del resto del tempo esistono sicuramente infiniti altri modi per adattare le fazioni alle regole del gioco e le regole alle fazioni anche nel caso volutamente in questo video io sono voluto restare sul più generico possibile lo scopo è più che altro quello di farvi degli esempi e darvi delle idee poi starà a voi applicarlo nello specifico al vostro gioco e a questo punto dato che siamo in chiusura vi dico iscrivermi qui sotto quali sono i modi che voi avete utilizzato per integrare le fazioni delle vostre quest direttamente all'interno della meccanica del regolamento che state utilizzando magari spiegateci anche qual è la meccanica che avete usato e qual è il regolamento come sempre se avete domande e dubbio perplessità scrivete anche quelle qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che avuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano con la maggior parte degli altri in descrizione trovate i link al server di discord e al gruppo telegram dove metto io l'annuncio dei video quando escono manualmente e dove si raduna anche la community del master k e che periodicamente tira fuori i progetti strampalati per il resto io sono il master k e noi ci vediamo nel prossimo video